Buongiorno a tutti, sono il professor Giorgio Perilongo, sono il direttore della clinica pediatrica e il coordinatore del dipartimento funzionale malattierare dell'azienda ospedale Università di Padova. Sono anche il referente per la rete europea che unisce fra di loro gli ospedali di eccellenza per quanto riguarda il trapianto nei bambini, sia di organo solido che di midollo. Sono quattro gli istituti in Italia che partecipano a questa rete europea e noi siamo assieme al bambino di Gesù di Roma l'unico ospedale che fa il trapianto di tutti gli organi solidi e del midollo. In Europa ci sono 24 di questi network, così si chiamano queste reti, che uniscono fra di loro ospedale di eccellenza per 24 gruppi di malattie rare o di procedure rare come sono appunto quelle dei trapianto nei bambini. Va detto che l'azienda ospedaliera di Padova è la prima istituzione in Europa per il numero di questi network a cui partecipa.